La squadra si sente bene in questo momento, i giocatori hanno molta grinta, fiducia e esperienza per giocare con questi tipi di partiti. A proposito di esperienza, per lei personalmente credo che sia la quinta finale tra Supercoppe, Coppe vinte e Scudetti. Sì, sinceramente non lo so, non riconto. Abbiamo fatto i conti. Io non lo faccio, per me solo vivo del presente e in questo presente sta la prossima partita del sabato per giocare una volta più una finale, una bella partita, un bello campionato. Penso che è il frutto del lavoro, di un anno completo, di una squadra che ha fatto tante cose, tante cose buone. Che cosa deve fare l'acqua e sapone per vincere e cosa non deve fare invece? Deve fare una tensione speciale, un atteggiamento, una concentrazione e il gioco è la nostra filosofia. Penso che è bisogno. E lo che non deve fare è entrare in nessuna dinamica che non sia solo la del gioco. Penso che dobbiamo stare molto attenti a quello che succede dentro del campo perché loro sono giocatori di molta qualità, con molta esperienza. Loro hanno vinto anche tanti campionati che dobbiamo rispettare e essere sempre attenti a qualcun dettaglio tecnico-tattico di loro. Perezze, nella serie della finale voi avete vinto due partite e diciamo che due le avete perse però ai supplementari. Vuol dire qualcosa questo? No, posso dire che siamo una squadra che abbiamo perso due volte, però che sempre, posso dire che non molare. Sempre giochiamo con questa filosofia, fino alla fine dobbiamo dare tutto lo che abbiamo dentro e un po' di più. C'è il palazzetto che sarà sold out, tutto o quasi per voi? Sì, per noi è una grande responsabilità. Penso che giocare in casa davanti di tante famiglie, di tante persone con tante aspettazioni, credo che per noi è una situazione molto, molto stressante. Giochiamo normalmente meglio quando lo facciamo fuori di casa. Ma credo che è una grande prova di nuovo per che proprio uno in uno stiamo in una situazione di concentrazione, come ho detto, molto, molto importante, di un 120, un 130%, un 20, un 30% più dello abituale.